Abbiamo bisogno di tempo, abbiamo bisogno di tempo di allenamento, di tempo di gioco per migliorare come squadra, però sono molto contento con i giocatori che sono a disposizione e a voi piace tanto questa cosa di obiettivo, primo, secondo, quinto, decimo, il mio obiettivo è vincere domani e domani dopo la partita, se siete là per parlare con me, il mio obiettivo sarà vincere la partita dopo questa e quando dico questo lo dico di un modo positivo e non di un modo negativo, voglio vincere tutte le partite.